Avvia la registrazione Ciao a tutti Benvenuti In questo nuovo video Oggi faremo il video unboxing Di questa scatola E' una scatolina più piccola Ora la tiro giù perché se no non mi vedete Ottimo E dopo la ritiro su Allora vediamo un po' intanto Se state rispondendo Interrompile Voce non attiva Allora Ammozziamo prima la cosa La scatola più piccina Che è una disca ssd Da 128 giga mi sembra Quindi Lo apriamo perché Ho comprato Due nuovi pezzi Per cominciare a rifare il computer fisso Da capo Perché Ho riuscito a alcune cose Alcune cose le voglio cambiare Quindi Voglio cambiare il case Soprattutto Poi c'ho da smontare Altra roba E questo è il disco E la scatola la buttiamo di qua Ora Apriamo questo bel disco Allora Ok Molto bene Tutto molto bene Bene Molto bene Via Perfetto Uh Molto bene Fatto E l'abbiamo aperto E questo è L'hard disk Della Seagate Molto interessante Sì Molto Interessante Profumo anche di nuovo Quindi fantastico Via Della seagate Mi sembra La 128 gigabyte Anche se non ne sono Più di tanto sicuro Però vabbè Insomma È da un tot Diciamo così Inizio dice sempre È da un tot E adesso Abbassiamo il maiale Questo è un case E Non so come Questo si fa Da prima Perché Io non so Miracuzzi Ora Tutututum Tututum 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 Ora Lo so che mi dico Non metto la scatola È un'attima 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 Se lo voglio Tutto Ok Ok Mi sembra Un bellissimo case Ragazzi Un attimo E ora Devo stare giù Per forza Sì Sì È benissimo Solti lo giù Un'attima Un'attima Non ho aspettato Un'attima Perché Questa anche Questa non me lo dovevo Amplire Però Ok Un'attima 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 No Non è scena Accidente A quest'idiota Di che cosa Di cosa Ok Ok Ottimo E adesso Tutto Tutto Ok Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Un'attima Un'attima Questo è un case Figo Ragazzi Questo è un case Figo E adesso Zitti E Spellicolamento Un altro Tanto Molto bello Mi sembra anche Molto 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 Spazioso Ma Ok Va bene Benissimo Ora Ora Zitti E Spellicolamento In corsa Meglio Legare Poi Via Ah Questo è Bello Sì Questo è Bellissimo Bellissimo Sto Che Come ti lascia Un botto Vi devo dire La purissima Verità Sì E Sembra Particolare Ragazzi Vi dico La verità Sembra Particolare Però A me piace Sì Un computer Un bel Computer Da gaming E Viete Ragazzi Io ora Vi Vi saluto E No Ci vediamo Il prossimo Video Ciao Ciao Se le interrompi Interrompi